ciao a tutti ragazzi sono peter flame e questo è un video di call of duty black ops è un video che inizierò diciamo di demolizione è un video che inizio gioco ai tempi supplementari qui con me sta commentando che disattivazione ragazzi e niente va bene allora questa è una partita demolizione e andrò non ad obiettivo a decisioni eeeh novella arriva di nuovo canale il sito al buon di quanto è un po' e quando il liberto questo di tanto sono antischietti giochi di vestigio pro il buco del so che non è no ardua per te eeeh non lo approfittarne per inizia tutti i sensi iscritti siamo quasi a 40 iscritti e avendo questo video vi chiedo di iscrivermi perché per me è molto importante e vabbè puoi continuare a montare la partita si vabbè sto diventando il famas qui con la mimetica rossa e come accessorio ha caricatore aumentato che diciamo è molto utile proprio perché può fare delle doppie senza ricaricare questa partita con il tempo supplementario dura molto all'incirca ne pare 8 minuti così e con il guaggimento utilizzando la clamor la vera e le granate e le sordenti ehm come vedo città un'arma però non so prima la m1919 1901 e poi è il quale è più difficile il faccio aspettate no no svegli cosa hai fatto non lo so non lo vedi neanche te non lo vedi si è vero c'è una doppia e niente le serie che sto utilizzando sono ehm aerospia support aereo e cani se non sbaglio qui mi uccidono adesso e e niente diciamo che questa partita è abbastanza buona comunque come terza perca sto utilizzando hacker ehm si è molto buona è vero si è molto buona è vero e la storia qui mando il supporto ehm diciamo questa partita è abbastanza vecchia ehm mi pare che ehm comunque sia c'è già ne parlarei molto e niente allora ci sono delle novità riguardo al canale ehm vai digli un po' a te e vabbè tra poco metteremo il nostro montaggio e vabbè se ne vuoi dire anche tu si che stiamo cercando di diciamo si stiamo cercando di installare programmi come ad esempio sony vegas e presto avremo comunque faremo dei video in hd infatti vabbè spero che già lo sappiate comunque ehm 75 iscritti ad hd pvr o comunque un programma per registrare bene non con la videocamera si e niente qui vabbè faccio un po' di decisioni in cui con il supporto e mi pare che vabbè fra un po' finisce ehm niente vabbè questa partita diciamo è abbastanza buona 55 12 e ragazzi quando inizieremo qui me lo abbattono ehm quando inizieremo a faccio una tripla ehm quando inizieremo diciamo a mettere i video e avere un po' più di di visualizzazioni e di iscritti cominciare a mettere dei video su un programma diciamo su canali di youtube abbastanza importanti come esempio per la coda ehm video già d'italia e ehm si e commentare con tt e roba così insomma proprio per pubblicizzarci e per aumentare gli iscritti però bene leggiamo siamo a quanto cioè siamo soddisfatti di avere questo canale e vabbè ehm allora ma sono soddisfatti di avere un'ottimiglia e trovare un'ottimiglia e trovare un'ottimiglia si perchè poi io non c'ero ehm mother warfare 3 io non lo volevo registrare con la telecamera davanti al televisore anche se la telecamera è molto buona il registro in full hd ehm va bene comunque volevo dare un po' di novità su mother warfare 3 diciamo che sarà cioè io credo sarà tipo un gioco strafigo boh cioè penso sarà il gioco più bello che faranno boh vabbè comunque le sposa a clay si infatti ho visto il litmarker vabbè ehm comunque sia cioè già ne parlarei molti uscirà l'otto novembre e di quest'anno naturalmente ebbè vorrei vedere ehm c'è avrà un comparto multiplayer molto cioè comparto multiplayer eh sì serve i tecnico di xdarkdvx96 vabbè diciamo solo dark sniper diciamo luca eh bravo ehm c'è anche anche la penso che la campagna sarà molto bella anche perchè come cioè dal 3 che ho messo nel canale cioè si può vedere che è ehm c'è veramente uno spettacolo ehm 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 rivoluzionerà il i giochi di first person shooter cioè di prima persona anche per me tecnico ehm altri che programmi fps si si e vabbè comunque io spero che non sarà cioè che come si chiama Battlefield 3 non sarà una cosa tipo ehm come si chiama il gioco ehm che ne sono? ehm 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 home front cioè che prima ne parlavano tutti bene adesso cioè io non vedo c'è molta gente che ci gioca diciamo che un mio amico se l'ha comprato e cioè è rimasto soddisfatto però ogni td che è tornato a giocare a black ops e si perchè poi diciamo ehm i cod non lo so monopolizzano il mercato perchè non lo so stanno qui da vent'anni i cod e nessuno ha mai smesso di giocarci ehm io vediamo penso che ehm Battlefield 3 rivoluzionare proprio come detto il mondo dei fast person shooter proprio perchè sta in zitto proprio perchè ehm niente la lo sponsor diciamo della di Battlefield 3 che mi pare che sia ehm ehm ieri si che come lo sponsor si va bene che o meno lui si che disattivo che disattivazione dei ragazzi eroe ehm beh e niente ha speso già adesso ha speso mi pare più di 10 milioni di di tolla io solo per la per la pubblicità e per diciamo tutte le ehm la pubblicità nei qui guardate quello fa una toffia con una glamour i giochi e qui vabbè io proprio si ma io ho un po' c'è un punteggio di 43,5 ehm poi però qui diciamo il video sta finendo allora cercavo di non perdere la partita quindi sono morto tantissime volte proprio per cercare di non far piazzare la bomba ehm niente ragazzi ora il video è quasi nido e un piccolo video niente di che speriamo di arrivare a 50 iscritti presto e guardate qui vabbè mi accuccio e vincite questo e vabbè niente di che ragazzi questa partita la vinciamo e ci saranno anche video dove io piazzerò la bomba in demolizione sempre ho fatto un video dove ne appiazzare i 10 un round non te le fa vedere si e me le fa vedere solo diciamo quando mi piazzo 5 e e mettono delle brevi clip con quelle e delle uccisioni mie di luca il montaggio è quasi pronto cioè speriamo di far funzionare sony vegas pro 9 perchè sarebbe meglio farlo con quello in montaggio perchè abbiamo diversi problemi e niente ragazzi se qualcuno ci da una mano e ci aiuta diciamo sul sony vegas pro noi saremo molto contenti e niente e spargite la voce perchè noi stiamo cercando di emergere ma abbiamo un po' di difficoltà quindi se voi avete qualche amico diteglielo a questo canale ciao ciao